Un carico di spazzatura spaziale in arrivo sulla Terra. Il cargo proviene dalla Stazione Spaziale Internazionale ed era arrivato carico di rifornimenti 72 giorni fa. È ripartito con la spazzatura prodotta dagli astronauti a bordo. La navicella spaziale dovrebbe bruciare nell'atmosfera distruggendo il suo carico in un'area remota del Pacifico.